Il 30 dicembre di 22 anni fa si consumava il massacro di Makobola in Repubblica Democratica del Congo. Oltre 700 persone appartenenti alla comunità Babembe vengono selvaggiamente uccise a Makabola, a 15 chilometri da Ovira. I sopravvissuti e i leader della comunità attendono ancora giustizia. Questo messaggio di cordoglio rivolto ai sopravvissuti e ai parenti delle vittime e la nostra presenza qui è un messaggio anche per gli autori di questi crimini. Prima o poi sarà fatta giustizia e noi siamo per lo Stato di diritto. Lo stesso capo dello Stato ha parlato di istituire un tribunale internazionale per giudicare i crimini commessi in Congo. I morti dell'imboscata del 1998 sono in larga parte donne e bambine abbandonati alla merce vendicativa del popolo Bembe che vuole vendicare l'occupazione di terre considerate ancestralmente di loro proprietà ed occupate nei giorni precedenti dai miliziani ruandesi dell'RDC. Le ferite di chi piange figli e nipoti non si rimarginano. Vogliamo che i responsabili del massacro di Macabola vengano puniti secondo la legge. Gli autori dei massacri in Ruanda sono stati arrestati perché per noi non si vuole giustizia. In attesa che la giustizia faccia i primi passi, anche quest'anno la comunità ha pagato il suo tributo alle vittime.